Capitale della cultura vuol dire anche nuovi contenitori culturali, è il caso dello spazio torso, una novità che riconverte tra l'altro un ex supermercato in un luogo particolare tra Via Spala e Via Diaz. Assolutamente, è un percorso molto originale in un luogo, Via Diaz, che è una via centralissima del centro storico, che negli ultimi tempi sta rinascendo proprio a partire dall'arte e dalla creatività. Ci sono piccole gallerie d'arte, studi creativi di registi, designer, illustratori e ora questo spazio all'angolo tra Via Spala e Via Diaz, appunto in un ex supermercato che diventa spazio del contemporaneo, aperto in particolar modo e anche studio d'artista di Michele Cotelli, che è quello che ha scommesso su questa rifunzionalizzazione dello spazio e che diventa un luogo per ospitare in particolar modo giovani artisti anche in un asse specifico tra Pesaro e la vicina Romagna, Emilia fino a Bologna, ma in generale un luogo di incontro e di confronto che poi nella città della musica si aprirà anche a concerti ad hoc. Saranno cinque appuntamenti che attraversano il tema Unnatural, che va in simbiosi per affrontare il tema La natura della cultura, che è il titolo per Pesaro 24, Capitale Italiana della Cultura e ci saranno cinque appuntamenti che vanno a declinare oggi nel tempo dell'antropocene, della rivoluzione informatica, alcuni confini, limiti, andare a interrogare delle questioni che sono da sempre tema dell'umano vivere. E quindi nel primo appuntamento con Lorena Bucure e Davide Vigiano andiamo a investigare il tema artificiale naturale, una mostra a cura di Ivan D'Alberto. E' chiaro che a fronte di quella che è anche l'offerta pubblica, degli spazi, delle gallerie che già sono impegnate a avere un polmone così importante anche di programmazione, a volte anche in dialogo con quella che è la programmazione pubblica, è una risorsa veramente importante e crediamo non solo un ottimo biglietto della visita, ma un contenuto di qualità in più da offrire ai cittadini, agli artisti e anche quanti visiteranno in più la città in questo anno speciale.